salve raga allora allora oggi parliamo un attimo del tempo della velocità della luce degli orologi dello spostamento arrivi prima arrivi dopo tutte queste bagianate qua tutte queste grandi bagianate che io sento ma purtroppo che volete fare funziona così purtroppo funziona così molti le sparano proprio grosse allora tante volte sento dire lo spazio tempo il tempo nello spazio lo spazio nel tempo del quadra quando un oggetto si muove viaggia alla velocità della luce nel senso la visione è la velocità della luce perché quando tu alzi gli occhi al cielo e guardi qualsiasi cosa la vedi alla velocità della luce perché quello il riflesso di fotoni arrivano a quella velocità perciò tu vedi alla velocità della luce perciò se tu vedi un treno in movimento sempre a quella velocità lo vedrai una luce qualsiasi cosa la vede sempre a quella velocità però c'è un però quando faccio un esempio quando si parla sempre degli orologi magari del tempo che rallenta o che magari tante volte dicono in certi film pure se hai visto che nel senso un anno sono passati sette anni dieci anni sono passati mille anni insomma dipende come 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 impostata la velocità no perché se dici che quando la velocità è fortissima il tempo rallenta rallenta addirittura se ferma il tempo di loro dicono che se ferma pure allora faccio un esempio la luce del sole per arrivare fino alla terra ci metto 8 minuti più o meno un poco più di 8 minuti a 150 minuti chilometri del sole perciò se mettiamo caso non sincronizziamo due orologi no due orologi mettiamo l'orologio sulla terra a mezzogiorno e impostiamo l'altro orologio che sta sul sole a mezzogiorno mezzogiorno tutte e due contemporaneamente hanno lo stesso orario nel senso io li catalogo tutte e due quindi li sistiamo qui mezzogiorno mezzogiorno tutte e due poi uno lo porto sul sole ok è sempre mezzogiorno sano perché è normale il tempo che l'orologio cammina e lo porto fino al sole da solo le do parti alla velocità della luce dovrebbe partire alla velocità della luce dovrebbe arriva qua secondo voi gli orologi rimangono sincronizzati o magari uno va un po più lento o l'altro rimane come è come secondo me come funziona allora ve lo dico come funziona funziona che non oggi vanno sempre uguale vanno sempre semplicemente uguali nel senso quando tu parti a mezzogiorno parte dalla mezzogiorno arriva sulla terra sta a mezzogiorno e otto minuti e l'orologio quello che sta sulla terra che l'hai sincronizzato di dato lo start come sono sul sole quello che fa la parma si incontra si incontrano a otto minuti mezzogiorno e otto minuti tutto e due il tempo non cambia non rallenta non tutte cazzate queste dicono dicono tutte cazzate non esiste che rallenta il tempo aumenta tutte baggiano non è vero nulla c'è il tempo è uguale in tutto l'universo è uguale in tutte le parti del mondo che viaggia la velocità che la superi e che non la superi è uguale in tutto quando dicono sta 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 tonteria cioè è una cosa che non hanno mai provato mai provato nel senso quando loro fanno le prove io ho sempre parlato che tante volte se ne abbiamo parlato anche in diretta che loro dice no alle prove le hanno fatte c'è stanno dei centesimi del secondo con gli orologi atomici poche sosto orologi atomici cioè capito orologio atomico per far capire che è veramente preciso non è il problema preciso non preciso il problema che l'orologio come quello come ho detto io quando parte a quell'orario arriva a quell'orario può essere atomico quanto te pare il tempo scorre uguale a quell'altro orologio né più né meno tu puoi andare pure poi superare pure la velocità della luce ma l'orario rimane quello non è che ti fermi e quello continua a camminare tanti dicono vabbè ma se tu parti da qui da qui andromeda che sta a due milioni e mezzo di anni luce no e ci metti un giorno un giorno no sulla terra sono passati due milioni e mezzo di anni cioè io parto da qua arrivo su andromeda ipotesi e ci metto un giorno qua sulla terra sono passati due milioni e mezzo anni perché io perché normale perché tu hai viaggiato la velocità della luce ferma il tempo un po' però mi si è fermato il tempo alla distanza che ho percorso un po' però viene rispettato nel senso che sulla terra sono trascorsi due milioni e mezzo di anni cioè io con ora sono arrivato su andromeda sulla terra sono passati due milioni e mezzo d'anni perché alla velocità della luce il tempo si ferma però percorrendo lo spazio il tempo è cambiato percorrendo quello spazio a quella velocità nel senso con giornali uso andromeda il tempo due milioni e mezzo il tempo lo spazio percorso due milioni e mezzo il tempo si è fermato perché dicono alla velocità della luce il tempo si ferma cazzate cioè ci ho messo un giorno arrivato su andromeda sarà passato un giorno pure sulla terra perché se io faccio vado su ci metto un giorno tocco che ne so prendo la bandierina come quando fanno i corritori che poi prendo la bandierina da andromeda la riporto qui il giorno dopo sono passati due giorni cioè sono passati due giorni non sono passati cinquanta cinque milioni di anni due milioni e mezzo cazzate sono stronzate no perché loro hanno fatto le prove costi orologi atomici perché loro hanno calcolato tramite i satelliti perché loro fanno tramite i satelliti hanno calcolato che il tempo rallenta ma non è il tempo che rallenta cioè e la velocità sempre ho spiegato e la velocità della luce che magari ci mette arrivare su quel punto e poi a tornare allora loro dicono ha visto il tempo ha rallentato ha rallentato il tempo no non ha rallentato il tempo cioè ha rallentato e la velocità della luce perché se parla delle frazioni del secondo se vi faccio un esempio se sky no col satellite non trasmette a 70 a 36 mila chilometri d'altezza no cioè il segnale dalla terra arriva sul satellite poi dal satellite arriva nelle parabole e arriva nelle televisioni e tu vedi la partita c'ha 36 anni 36 sono 72 mila chilometri 72 mila chilometri se tu fai il conto è normale che dal momento che parte il segnale arriva sul 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 satellite arriva poi torna sulla so 72 mila chilometri giusto c'è la velocità della luce quanto ci ha messo se viaggia a 300 mila chilometri al secondo 867 488 ci ha messo un quarto del secondo un quarto del secondo più o meno cioè allora loro fanno quel calcolo lì perché avete il tempo no e la velocità che la luce percorre ti fa sembrare che gli orologi che il tempo si ferma o rallenta no e il problema è la velocità della luce che ci mette un quarto del secondo per per tornare da 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 sky parabola e basura televisione tutte guardate la partita cioè non è questo il problema loro non rallenta nulla e la velocità che quel momento arriva colpisce il satellite e ritorna 36 36 a 72 mila chilometri poche parole la luce ci ha messo un quarto del secondo per parte del momento che tu parte il segnale arriva e ritorna quello che ha messo non è che rallenta il tempo per tutte cazzate a prescindere che non lo puoi provare perché non hai una macchina che arriva alla velocità della luce allora potresti dire veramente sai cioè provamolo con una macchina io ti esposto con la macchina qui e là e allora non lo possiamo provare perché loro la prova che hanno fatto con gli orologi atomici a quella distanza con i satelliti ma il satellite non è non è il fatto che il tempo rallenta il fatto che la luce ci mette un po di tempo arriva là e a ritornare tutto là perciò questa cazzata della relatività generale è una tronzata ho sempre detto perciò altra cazzata che ho smentito a questi fisici studiate invece da da dire cialtronate studiate che è meglio magari non fate i pappagalli ripetete quello che dicevi stai da cento e passa anni ok ciao